In Italia sono alle 4 del mattino quando con questo tweet il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump informa che è pronto a chiudere temporaneamente le porte del Paese per contrastare il nemico invisibile, la pandemia. Sospendere l'immigrazione vuol dire che nei prossimi giorni alle frontiere, negli aeroporti, nei consolati americani verrebbe negato il permesso di entrare sul territorio degli States. Di vieto di accesso non agli immigrati irregolari, cioè alle persone che provano a superare la sorveglianza ai confini, ma a circa mezzo milione di lavoratori che arrivano con un visto regolare, anche temporaneo. Una decisione drastica che lascia perplessi, motivata dal fatto che gli States sono il Paese al mondo maggiormente colpito dal Covid-19, con quasi 800.000 casi accertati di contagio, con oltre 42.000 decessi, di cui più di 14.000 solo nello Stato di New York. Peggiore anche la situazione in Turchia, che ormai ha superato la Cina per i casi confermati, che arrivano a oltre 90.000 con almeno 2.140 morti. E tornano a salire i casi di coronavirus in Russia, con 5.642 nuovi contagi individuati nelle ultime 24 ore, arrivando a un totale di quasi 53.000 casi. In tempi di coronavirus niente come prima, quindi non sorprende che è stato cancellato l'Octoberfest, il tradizionale festival poporale di Monaco di Baviera, per gli amanti della birra.